Oh, chi sei? Oh, chi sei? Brigitte Bardot ti chiamerei Oh, chi sei? Oh, chi sei? Brigitte Bardot dei giorni miei Mia, tu che spilavi mentre io andavo via Fotografia, Parigi notte un'idea Tu, che parli con la stessa voce di lei Ti ascolterei Fino a capire chi sei Oh, chi sei? Oh, chi sei? Brigitte Bardot Non ti chiamerei Oh, chi sei? Oh, chi sei? Oh, chi sei? Brigitte Bardot dei giorni miei Oh, chi sei? Oh, chi sei? Sei tutto quello che vorrei Oh, chi sei? Oh, chi sei? Brigitte Bardot Risponderei Mia Ti chiamerò lasciando indietro una scena Andiamo via Stanotte 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 ho avuto un'idea Stanotte ho avuto un'idea Brigitte Bardot Ti chiamerei Oh, chi sei? Oh, chi sei? Brigitte Bardot Dei giorni miei Oh, chi sei? Oh, chi sei? Oh, chi sei? Sei tutto quello che vorrei Oh, chi sei? Oh, chi sei? Brigitte Bardot Risponderei Le train numéro 8 843 En provenance de Lyon-Pardieu Et à destination de Paris Garderie Va entrer en gare Voie 4 Oh, chi sei? Oh, chi sei? Brigitte Bardot Ti chiamerei Oh, chi sei? Oh, chi sei? Brigitte Bardot Dei giorni miei Oh, chi sei? Oh, chi sei? Sei tutto quello che vorrei Oh, chi sei? Oh, chi sei? Brigitte Bardot Risponderei Regito Bardot Grazie a tutti